Ciao, ciao a tutti e buona giornata, buon mercoledì. Io oggi sono a casa in ferie perché me la sono presa comoda, avevo un po' di colloqui di Lucia e quindi ho preso una giornata di ferie. Ma veniamo ai miei ringraziamenti. Allora, come avrete visto sui social, sono arrivata a più di mille iscritti sul canale e questa cosa mi ha stupito perché sono partita con un filone prettamente creativo di maglia, di uncinetto, qualcosa di cucito, insomma tutte queste cose che si fanno con le mani. Poi sono arrivata in questo mondo per me tutto nuovo ma molto affascinante dove sto imparando tantissime cose e devo dire che nell'ultimo mese gli iscritti sono saliti, sono diventati davvero davvero tanti. C'è gente che mi segue da prima e che ha continuato a seguirmi ma anche tante 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 amiche e amici nuovi e io di questo davvero sono molto contenta, non me l'aspettavo. So che mille iscritti non è nulla, non voglio arrivare a chissà quale numero perché è proprio una passione pura e semplice però sono davvero contenta. Vi racconto anche un aneddoto nel senso che... Allora non so se capita anche a voi, a chi ha un canale YouTube ma io penso sempre che le persone che mi guardino non siano persone che mi conoscono realmente a parte qualche amica che ho e che so che mi segue e che ascolta i miei consigli, non sono consigli che viene invogliata dai miei acquisti ad acquistare a sua volta ma ieri tornando dal catechismo dei miei 26 bambini di seconda elementare sulla strada per tornare a casa avevo davanti a me due conoscenti, una è un'amica, una signora che è mia amica che mi conosce da quando sono piccola che abito nel quartiere, che è del mio quartiere e un'altra è una conoscente che però conosco perché ha i figli più o meno che hanno la mia età avevano delle borse del Tigotà e quando le ho salutate si sono messe a ridere e hanno detto ecco non ci hai sentiti che ridavamo come delle matte, parlavamo di te per i tuoi acquisti, per i detersivi delle tende andiamo la prossima volta, allora li prendiamo anche noi, ma sei sicura sono buoni e questa cosa mi ha sconvolto, mi ha sconvolto perché ho detto mamma mia davvero le persone che mi conoscono tengono conto di quello che dico non perché io racconti delle bugie, perché vi racconto soltanto la mia esperienza e com'è il mio parere su quello che provo, però mi ha lasciato veramente un po' così senza parole ma veniamo all'argomento del video di oggi, volevo presentarvi i miei 5 preferiti del momento 5 prodotti preferiti del momento, per la maggior parte sono tutti relativi alla skin care del viso e c'è un prodotto corpo che mi ha stupito tantissimo partiamo da due prodotti che vedo nei tanti video di skin care o comunque di ragazze che propongono prodotti di skin care diciamo che la mist e la essence non sono sempre presenti perché sono due prodotti alternativi, aggiuntivi ad una skin care coreana prettamente skin care coreana io dopo avermi studiato per bene i due libri che vi avevo presentato nel video della skin care ho fatto proprio la skin care routine intera dei 10 passaggi e a volte poi quelle maschere diventano anche di più ma mi piace, non lo trovo un tempo buttato via, un tempo sprecato anzi è un tempo che mi permette di volermi bene di stare meglio in questo periodo particolare in cui sto proprio cambiando fisicamente e psicologicamente e quindi io ve le presento perché io piuttosto rinuncerei a un siero ma non rinuncio in nessun modo né a una mist né a una essence il primo prodotto che vi voglio presentare è questa ed è la Dear Hydration Facial Mist di Vanilla sono andata anche su Google per vedere come si pronunciasse per non fare proprio sempre la figura della capra che conosce l'italiano e il dialetto ancora di più ma che l'inglese proprio non lo conosce per chi non mi conosce ed è appena arrivato sul canale io ho fatto il liceo artistico ma ai miei tempi di Josué l'inglese non era contemplato quindi non ho fatto la lingua straniera ho imparato l'inglese proprio tramite i miei hobby quindi il punto croce, il patchwork e tutte le varie cose che sono poi succedute negli anni ma torniamo a questo prodotto che per me è spaziale allora la mist è una sorta di mist se non ricordo male in inglese vuol dire nebbia nebulizzazione se qualcuno è un inglese doc magari si rivolterà ma io ricordo questa cosa e praticamente la si usa è introdotta nella skin care coreana dopo la detersione la doppia detersione per apportare quell'idratazione che serve poi per poter continuare e perché è meglio si assorbano tutti gli altri principi tutti gli altri prodotti che noi andiamo ad introdurre questa io per il momento ne ho provate tre o quattro sto provando tanti prodotti non tantissimi nel senso che ne introduco due alla volta perché altrimenti non riesco a capire l'efficacia sulla mia pelle non posso introdurre 50 tonici e 50 creme e 50 sieri perché poi alla fine non capisco che cosa mi faccia bene o che cosa invece non è tollerato dalla mia pelle e questa devo dire che è spaziale io questa l'ho acquistata sul bellissimo sito che è Nuvole Blu di Elisa e ragazze vi faccio vedere se si vede perché non c'è neanche la nebulizzazione cioè è praticamente invisibile voi sentite avete in mente quando d'estate si va nei bar all'aperto e fa tanto caldo e ci sono quei nebulizzatori che vi regalano quella freschezza ecco è questa cosa io adesso provo a vedere ma non so se la vedrete perché è impercettibile è impercettibile ma è stupenda io questa me la passo 3-4 volte al giorno soprattutto quando ho i momenti così improvvisi di calura e devo dire che è spaziale per me la migliore mist provata fino adesso questa mist mi sono scritta anche il vigino qui per vedere che cosa per non raccontarvi poi delle stupidate e ci dice che appunto la nebulizzazione spray è particolarmente fine e questo lo posso confermare può essere vaporizzata prima del trucco durante la giornata ma anche per concludere il nostro trucco per fissare o comunque per regalare quell'idratazione e quell'effetto e quell'effetto glow lo dico sempre glow ma non so neanche bene che cosa significhi penso significhi splendenti insomma quell'effetto bello lucido ma non lucido da pelle grassa oleosa ma quel lucido da pelle sana da pelle bella è molto delicato perché ha il valore del pH della pelle e contiene l'acqua di loto e l'estratto di bambù che forniscono idratazione mentre poi ha l'estratto di menta che rinfresca la pelle ed è effettivamente così questa per me è spaziale spaziale non potrei farne a meno di questa e infatti ne ho già comprato un altro flacone perché perché quest'estate presumo che ne avrò assolutamente bisogno e per me è meravigliosa ha un profumo delicatissimo un po' erbaceo si sente leggermente la menta ma proprio delicato voi lo percepite quando lo spruzzate ma poi quando lo avete sul viso non lo sentite assolutamente quindi questo per me è veramente un prodotto di cui io non potrei assolutamente farne senza farne a meno questa costa 11 euro e 95 sul sito di nuvole blu e secondo me sono tutti i soldi ben spesi anche perché dura parecchio insomma secondo prodotto che anche qui vedo e non vedo non sempre viene introdotto perché magari qualcuno non ne ha l'esigenza perché non ne sente la necessità è la essence io di essence per il momento ho usato questa e ne ho introdotta un'altra perché non mi piace aprirne tanti poi comunque la quantità è considerevole quindi preferirei magari appunto finirne una o comunque arrivare a più di metà e poi iniziarne un'altra questo prodotto non l'ho visto consigliato da nessuno quando io l'avevo acquistato quando ho cominciato a girare nei vari canali per informarmi per vedere quali fossero i prodotti che magari potevano essere indicati alla mia pelle e quindi sono andata di mia sponte a comprarlo direttamente su un sito online di una farmacia conoscevo il marchio Svr perché è il marchio della mia crema del contorno occhi delle palpebre sensibile col quale mi sono trovata benissimo e così mi sono buttata mi sono buttata e ho fatto bene a buttarmi perché secondo me questa è fantastica la essence viene considerata un mix tra virgolette tra il tonico e il siero potrebbe essere anche una combinazione di entrambi perché ha una consistenza liquida ma non accosa e quando la mettete sulla pelle la picchiettate infatti qui mi prendono sempre in giro perché io quando sono in bagno picchietto picchietto su tutta la faccia tutti i miei ingredienti i miei prodotti e mi prendono in giro ma non importa va picchiettata lasciata assorbire un attimino e poi si procede con gli altri step della skin care non ha assolutamente profumo contiene il 2% di vitamina B associata all'acido ialuronico e la mia pelle ama l'acido ialuronico lo ama alla follia e ogni volta che io aggiungo sia la mist che la essence io la uso sia mattina che anche alla sera la mia pelle se la beve se la beve cioè non rimane bagnata gli altri prodotti comunque vengono assorbiti perfettamente per me è veramente essenziale per la mia pelle adesso vi faccio vedere guardate se riesco a farvi vedere com'è la consistenza no? ecco è sì non gelosa come potrei dire sembra davvero che sia un un siero addizionato poi con un tonico acquoso è spettacolare l'acido ialuronico si sente ha un effetto sulla pelle quasi siliconico proprio ma di siliconi non ce ne traccia è una sensazione meravigliosa di pelle rimpolpata liscia idratata per me è veramente veramente il top la pelle risulta morbida ed è proprio pronta a ricevere tutti gli step successivi della nostra skin care quotidiana la vitamina B3 è conosciuta come niacinamide e sappiamo che poi la niacinamide per le pelli grasse o per le pelli sensibili comunque è veramente il top degli attivi da poter utilizzare è testato al 100% su pelle sensibile quindi a me non dà assolutamente nessun tipo di problema ed è stata testata sotto controllo dermatologico tra l'altro sulla scheda diceva che c'è appunto questo valore aggiunto contiene l'83% di ingredienti di origine naturale all'interno di un packaging composto per il 25% di plastica riciclata al 100% riciclabile quindi anche questo diciamo non guasta per il nostro mondo malato non è comedogeno mi sono trovata veramente veramente benissimo mi piace da impazzire e non potrei fare a meno potrei farne a meno di tanti altri prodotti della mia skin care magari un siero ma di questi due assolutamente no il terzo prodotto che vi voglio presentare purtroppo io non lo riesco più a trovare ma ve lo presento perché mi ha cambiato mi ha cambiato proprio il tono della pelle lo sto centellinando perché praticamente è quasi finito me lo sto proprio centellinando a farla una volta alla settimana e mi spiace tantissimo perché non ho più trovato né la taglia deluxe 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 formato normale del prodotto e che avrei veramente acquistato con piacere perché mi è piaciuta tantissimo questa è una maschera una maschera peeling con vitamina C è una formula di buccia infusa di alfa idrossi acidi sono preparata che include l'acido glicolico l'acido lattico per eliminare le cellule morte della nostra pelle e contiene mi pare aspettate che vado a cercare le info contiene l'estratto di mirtillo nordico mi pareva di aver letto così vediamo se ce l'ho mi ricordo più comunque si a me pare che contenesse l'estratto di mirtillo nordico estratto di mirtillo non nordico artico ce l'ho pure scritto e leggo sbagliato comunque estratto di mirtillo artico selvatico e ha questo effetto illuminante quando la faccio io di solito la faccio dopo la detersione oleosa poi applico oleosa Elena madonna scusate dopo la doppia detersione applico la mist e poi applico questa maschera meravigliosa guardate c'è la spreco proprio per voi ha questo colore arancione si spalma in uno strato sottile che diventa trasparente e là si lascia agire dieci minuti come dicono le istruzioni io ho provato anche a lasciarla agire molto di più quasi venti minuti non si secca non si forma una patina che poi è difficile da rimuovere è meravigliosa e quando voi l'andate a risciacquare la vostra pelle non è più la stessa almeno la mia pelle non è più la stessa mi spiace davvero tantissimo di non averla più trovata perché per me questo è stato una delle scoperte più belle della skin care insieme alla mist e alla essence non vi ho detto cosa costava la essence la essence costa 13 euro e 68 io questo è il prezzo più più basso che ho trovato e sono 150 ml mentre questa maschera costa costava 6 euro e 99 e purtroppo non la trovo più anzi se qualcuno di voi sa dove si possa recuperare me lo faccia sapere perché ne compro 2 barili poi passiamo ad un altro must veramente meraviglioso lo so che questo lo conoscete tutti tutti ne avete fatto largo uso per me è stata un po' una scoperta entrando così a a bomba in questo mondo della cosmesi e della skin care mineral 89 è famosissimo è un prodotto un booster della Vichy e da anni sul mercato ma da anni regala una pelle meravigliosa da quello che ho capito a tutti a tutti quelli che lo utilizzano e gli ingredienti sono l'acido ialuronico multimolecolare che ha un effetto rimpolpante e si vede si vede davvero dopo i primi utilizzi io questo lo sto utilizzando da 2-3 settimane se non ricordo male ed è spettacolare ed è spettacolare ripeto probabilmente l'acido ialuronico sulla mia pelle ha del miracoloso perché è cambiata tantissimo si sono si è proprio è una pelle nutrita ma nutrita in modo sano la sento più più rimpolpata più levigata molto più idratata io non ho un problema di idratazione nel senso che bevo molto bevo parecchio bevo quasi due litri di acqua di acqua non acqua bevo due litri di tisane al giorno non zuccherate non è stato un percorso così mi sono educata a bere perché non ho mai sete ma ma devo dire che quando avevo fatto un test per per vedere com'era lo stato della mia pelle mi avevano detto che appunto era una pelle idratata probabilmente è comunque una pelle idratata ma che ha sempre bisogno di idratazione per poter dare poi il meglio e l'altro ingrediente è l'acqua vulcanica di Vichy di cui sono ricchi quasi tutti i prodotti di Vichy che è davvero ricchissima dei 15 minerali e la sua composizione veramente rende la pelle molto più sana molto più levigata molto più idratata molto più rimpolpata insomma io questo lo applico sia mattina che sera e se per caso per un problema in questi giorni ho la pelle un po' irritata non so se è il primo caldo se è il primo sole ci sono stati dei giorni molto molto ventosi che mi hanno dato problemi alle palpebre in una maniera pazzesca utilizzando tutti questi prodotti di Vichy ho capito che la mia pelle ne ha trovato beneficio quindi io questo tutti questi io ve li consiglio e questo è famosissimo ma ha ragione di essere famoso insomma questo l'ho trovato a 17,66€ su Farmacia Loreto mi pare e anche questo mi pare sia uno dei prezzi più bassi che ho trovato comunque poi nell'info box vi lascio tutti i link io vi consiglio sempre di usare l'applicazione trova prezzi perché vi dà la possibilità di vedere dove potete acquistare il prodotto a un prezzo minore poi è ovvio che non prendete solo un prodotto magari avete in lista altri prodotti che vi potrebbero servire o che volete acquistare e se li trovate comunque ad un prezzo minore tanto meglio l'ultimo prodotto che ho introdotto nella mia skin care del corpo e che non ho mai utilizzato in vita mia è questo allora ho cominciato a sentire parlare e comunque mi sono informata di creme oli da massaggio creme da massaggio da Simona di Beauty Passion Beauty Passion Beauty Passion si dai diciamo Beauty Passion Simona che è una grandissima estimatrice di creme per il corpo lei è una grandissima estimatrice di tutto io la amo mi piacciono tantissimo i suoi video quando molto schietta racconta se un prodotto gli è piaciuto se non gli è piaciuto che è il migliore insomma io la adoro appena esce un suo video io lo vado a vedere perché mi piace tantissimo e mi piace tantissimo la sua bimba e e quando ha cominciato a parlare di oli per il corpo così sono andata a vedere qualche qualche suo video mi sono mi sono un po' informata francamente non avendo mai usato nulla per il corpo l'olio mi sembrava una cosa too much come dicono quelle brave un po' troppo ma ho voluto sperimentare quando sono andata al Tigotà questo l'ho comprato l'ho comprato ed era anche in sconto se non ricordo male al di sotto dei 3 euro e olio per massaggio anticellulite olio essenziale di cipresso ginepro lavanda e lime a parte il profumo che è spaziale perché si sentono veramente tantissimi questi oli essenziali e creano un mix fresco profumato non intenso ma molto molto piacevole quando voi lo spalmate io questo lo uso alla sera perché riesco a farmi un bellissimo un bellissimo massaggio prolungato e devo dire che su di me ha avuto un effetto quasi miracoloso allora lo sappiamo benissimo siamo nella settimana santa siamo nella settimana autentica alla fine di questa settimana ci sarà un grande miracolo ma questo secondo me per me è un bellissimo miracolo perché mi ha ridonato elasticità tonicità io oltre che sulla mia abbondante cellulite con sparsa in tutto il mio corpicino lo spalmo bene anche sulle mie belle bracciotte e vi devo dire che le braccia sono molto più rassodate molto più la pelle è molto più elastica e soprattutto usandolo con costanza perché sempre ascoltando i consigli di Simona io applico una crema alla mattina e l'olio alla sera devo dire che più io idrato la mia pelle del corpo ma come quella del viso più lei è pronta a ricevere quello che io voglio regalare e questo olio che io spalmo in una quantità non abbondante ma abbastanza generosa si assorbe praticamente quasi subito le prime volte no e infatti ero un po' restia però mi sono detta andiamo avanti a provarlo per per qualche settimana e così è stato cioè più io idrato la mia pelle più la mia pelle è pronta a ricevere tutto quello che io le regalo e questa è una bellissima cosa questo io ve lo consiglio l'unica nota negativa ma allora nota negativa nel pack è che ha questo foro molto molto grosso e se voi ve lo brissate sulle mani fa un po' come quando mi lavo con l'acqua inondate il bagno di olio e non è il caso perché si spreca allora io siccome qui c'è tutto e sono una collezionista ho queste belle pipettine track prelevo il mio prodottino me lo vado a spalmare sul braccio sul corpo sulle gambe e poi vado con il mio massaggio e vi dico che per me è miracoloso lo so che non esistono dei prodotti miracolosi ma per me questo è miracoloso mi accontento ma vi dico la verità mi piace tantissimo mi piace tantissimo tra l'altro ha una funzione leggermente riscaldante ma proprio leggermente con l'olio essenziale di ginepro quindi nelle giornate in cui io non avevo il riscaldamento era veramente molto piacevole farsi questo massaggio serale perché mi dava quel calduccio che poi mi preparava la pelle ad andare a letto non completamente congelata con i 17 gradi che avevamo nelle camere e quindi questo io ve lo consiglio poca spesa tanta resa non fermatevi alle prime applicazioni perché se avete una pelle che non è abituata a ricevere una carezza farà un po' fatica all'inizio ma secondo me se lo provate anche voi ne sarete entusiasti come me perché a me sta piacendo tantissimo questo ha un prezzo di 3,90€ l'ho trovato su Notino che in questi giorni è ulteriormente scontato del 15% oppure lo trovate tranquillamente da Tigota sui 4€ 3€ io l'avevo trovato in offerta però è sicuramente un costo al di sotto dei 5€ e sono 200ml di prodotto quindi sicuramente insomma ce n'è da massaggiare va bene bella gente io vi saluto spero di essere stata abbastanza veloce in questo video vi ringrazio davvero ancora di cuore ma veramente di cuore perché mi state accompagnando chi prima chi dopo i nuovi i vecchi in questo percorso per me così divertente così bello che mi ha fatto scoprire un'altra Eli e che spero continui perché mi piaccio mi piace cosa sto diventando mi piace essere un po' cambiata domani vado a riprendere la Rinella che è la mia mamma per chi è nuovo di questo canale che è in vacanza nella verde Brianza da sua sorella e domani ritorna ovviamente per passare la Pasqua giustamente con noi ritornerà anche Pietro avremo poi tutte le funzioni del triduo pasquale e quindi io vi auguro di vero cuore una Pasqua autentica sia per chi crede sicuramente un momento così di riflessione visto anche il momento brutto che stiamo vivendo con questa guerra ma anche per chi non crede e che comunque ha la possibilità di ritrovarsi con la famiglia con gli amici ecco vi auguro che siano dei momenti di pura gioia di pura gioia perché possiate godere della compagnia delle persone a cui volete bene perché possiate rilassarvi mentalmente fisicamente con qualche giorno di vacanza perché si possa poi ripartire in maniera magari più positiva più pronti verso questa estate che sarà sicuramente un'estate strana per tanti di noi e permettetemi di fare un piccolo pensiero io mi commuovo sempre in questi momenti lo sapete ormai sono vecchia e penso veramente alle tante persone che non potranno godere di tutto questo di chi principalmente è coinvolto in questa guerra di chi ha persone che sono coinvolte perché stanno mandando aiuti perché magari sono dell'esercito e quindi non possono rientrare a casa dalle loro famiglie ecco mi rendo conto che davvero abbiamo tanta tanta fortuna siamo io particolarmente sono una persona fortunata e di questo devo sempre ringraziare quindi vi auguro davvero di trascorrere una Pasqua gioiosa e serena e ci rivediamo la prossima settimana un bacione e ancora grazie a tutti ciao